Quegli sciocchi adolescenti non sanno ancora con chi avranno a che fatti. Oh mamma mia, cosa diavolo sta succedendo? Qualcosa di terribile. Restiamo calmi. Questo pianeta è stato attaccato, io vi ho portati qui per salvarlo. Ah sì, come no? Siete stati scelti per formare la squadra che combatterà... Il Team Rocket. Ciascuno di voi verrà dotato degli straordinari poteri che furono delle creature che voi chiamate... Pokémon. Guardate bene, è la chiave dei vostri poteri. Ma... e questo cos'è? Quelli sono i trasformabili. Se sarete in pericolo alzateli al cielo dicendo il nome del vostro... Pokémon? Pokémon. Pokémon! Spilodonte Dinosaur sarà al tuo comando. Che succede? E questi che sono? Noi proteggeremo il mondo della devastazione. Uniremo i popoli della nostra nazione. Denuncieremo i mali della verità. Estenderemo il nostro potere fino a la stessa. È così, amico. E quando non sai come uscire dai guai, si chiama il Power Pokémon. E poi qua, nella nostra città, Power Pokémon, Power Pokémon. Infantibili e reali, proprio come li vuoi tu. Yremato Dinosaur, che non Premier se luce characteristic. E의字o. E quindi, come, come. Errlo, che non Sanze, un мало retorzarle,час ma이를 impor Bei loro. Eікor un beso! Egnato Dinosaur è una spazzola E香 allenze di legge e non Barolo. Grazie per la visione!